Prima di cominciare iscriviti al canale e attiva la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornato. L'Isola dei Famosi. Anticipazioni. Nella quarta puntata l'arrivo dei fratelli Tavassi ed una nuova eliminazione. Giovedì 31 marzo 2022 su Canale 5 a partire dalle ore 21 e 30 va in onda il quarto appuntamento con il reality show condotto da Ilari Blasi. Per i naufraghi dell'Isola dei Famosi il gioco inizia a farsi duro tra le prime liti e la tensione che sale sempre più per colpa della fame. Alle quali si aggiungono anche una nuova eliminazione. Alla sfida del televoto ci sono mamma e figlio Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni contro i prestanti Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni. All'inviato in Hondura salvi nel compito di guidare le operazioni mentre agli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino quello di commentare le gesta dei naufraghi. Novità di puntata sarà lo sbarco su Playa accoppiada degli attesissimi Guendalina ed Edoardo Tavassi. Agguerriti fratelli pronti a sparigliare le carte in tavola ed a mandare all'aria tutti i piani degli altri concorrenti. L'Isola dei Famosi. Il quarto appuntamento. Questa sera su Canale 5 torna in onda l'Isola dei Famosi per mettere in mostra le disavventure del gruppo di naufraghi disperso sulle spiagge dell'Honduras. Giovedì 31 marzo 2022 a partire dalle ore 21 e 30 circa Ilari Blasi conduce il quarto appuntamento con il reality show al fianco degli attenti e taglienti opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. A supervisionare la puntata in diretta dalla Palapa ci sarà l'apprezzato Alvin che come al solito sarà anche impegnato a spiegare le nuove difficili prove che dovranno sostenere i naufraghi. L'Isola dei Famosi. Le anticipazioni della quarta puntata. Con il nuovo appuntamento della trasmissione si inizierà ad entrare dentro le vere dinamiche del gioco. Visto che il pubblico assisterà alla prima vera eliminazione del reality. Dopo l'esito del televoto tra Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni contro Clemente Russo e Laura Maddaloni la coppia perdente andrà direttamente su Playa Sgamada dove si sfiderà con gli altri naufraghi per capire chi sia meritevole di restare in gioco. Piatto forte della quarta puntata sarà l'ingresso in gara dell'attesissima coppia formata da Gwendalina Tavassi e dal fratello Edoardo pronti a capovolgere il gioco e le sue dinamiche. La notizia per il momento. E solo per il momento termina qui. Se non lo avete ancora fatto questo è il momento giusto per iscriversi al canale. Attivate anche la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati e non perdervi neanche un video. Silver vi augura una splendida giornata. L'appuntamento è sempre per la prossima notizia. La notizia per la prossima notizia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.